buongiorno bambini a quanto pare c'è stata una bella nevicata nel villaggio sylvanian perfetta quindi hanno avuto un bianco natale i nostri coniglietti e tutti gli altri animaletti qui abbiamo la nostra fria vestita da mamma natale ciao fria ciao a tutti buongiorno buon natale eh ma il natale è passato oh no 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 fino alla befana noi qua diciamo buon natale ah mi piace questa cosa sì anche a me perché il natale è il periodo più bello dell'anno hai proprio ragione fria io lo adoro che bello da voi ha nevicato eh sì c'è stata una piccola nevicata ma ancora niente di che però è stata sufficiente per fare un bel pupazzo di neve wow che bello fria io ti voglio far vedere che cosa mi hanno regalato per natale uh sì dai fammi vedere fammi vedere sei pronta sì sì e voi bambini siete pronti mi è arrivata una cosa bellissima dei sylvanian families una cosa che vola eccolo qua il baby slate right set guardate che delizia la slitta con un piccolo rudolf e un'altra piccola coniglietta vestita da babbo natale poi ovviamente ci sono i giocattoli ci sono i pacchi c'è il sacco di babbo natale questo è un regalo che ho proprio ricevuto per questo natale quindi non potevo farvelo vedere prima ho dovuto aspettare ma oggi lo apriamo insieme perché come dice fria siamo ancora in perfetto clima natalizio sono le vacanze e quindi quale occasione migliore per presentarvi questo set vediamo la scatola anche dietro questo in italia non si trova ve lo dico subito infatti credo che mio marito che me l'ha regalato l'abbia preso dall'inghilterra comunque all'interno abbiamo questa bellissima slitta rossa e oro un piccolo rudolf che è uno dei personaggi dei dei barboncini che non so ve li ho già presentati i barboncini sapete che non mi ricordo poi credo di comunque questa è una piccola coniglietta latte una milk rabbit i pacchi il sacco di babbo natale dei giocattoli qua ci sono altri play set guardate che carini perché la slitta si può collegare ad altri ad altre slitte o ad altri carretti come per esempio questo qua di halloween che bellissimo il caddy wagon che vedremo prossimamente adesso andiamo ad aprire la scatola ecco qua tutto fuori dalla scatola io comincerei dei personaggi che sono stupendi oh ti sei sporcato tutto con la neve eccolo qua la nostra piccola renna rudolf la renna dal nazino rosso guardate se non è un amore mamma mia che tenerezza è troppo carina troppo 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 io infatti questo set lo guardavo lo riguardavo dicevo ma ma ci picchia non riesco a trovarlo e invece il mio personale babbo natale me l'ha fatto recapitare che bello sono troppo contenta troppo bellino e poi oltre alla nostra piccola renna rudolf qui abbiamo un piccolo coniglietto la coniglietta breeze tutta sporca di neve ma sei caduta ti sei rotolata nella neve con il suo bel vestitino scusate un po di tosse guardate che carine le nostre conigliette tutte e due con il vestitino rosso con i pomponi il cappello da babbo natale sono dolcissime free è sempre molto elegante ma che bellina ah no che poi lei non è breeze perché non è una chocolate rabbit family no ho sbagliato ma allora chi sei sei erri sei un maschietto ma allora sono proprio tontolona oggi è un maschietto è un piccolo babbo natale ops scusate pardon e adesso lo vado a mettere sulla slitta ma guardate che bellini dei bei pacchi regalo c'è regalo per voi da qualche parte andiamo a metterli sulla slitta riuscirò a farci stare tutto magari loro li metto seduti aspettate mettiamo seduti così magari riusciamo a far star tutto su questa piccola slitta così un pacco lo diamo qua la nostra fria che è stata molto brava poi mettiamo il sacco di babbo natale opala e abbiamo dei piccoli giocattoli un piccolo alberello di natale una mongolfiera geniale peraltro perché il play set con la mongolfiera esiste davvero e spero di poter velo mostrare il prima possibile ed è proprio di questo colore giallo e arancio e lo metto qua vicino a rudolf poi mettiamo l'alberello di natale qua vicino a rudolf e poi che cosa abbiamo oh un orsacchiotto che carino mettiamolo qui oppure lo mettiamo vicino al nostro piccolo babbo natale ecco qua la nostra slitta è pronta è pronta per volare in cielo è pronta per volare in cielo posarsi sui tetti delle case poi il nostro babbo natale va giù dal cammino e porta tanti doni a tutti i bambini nuovi sono proprio contenta di aver fatto questa puntata veloce però molto carina vi saluto ci vediamo la prossima puntata anche perché ho un'altra novità da mostrarvi questo arrivo dalla cermania quando si trova no 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 ciao a tutti e ancora buon natale